Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il Clemente e il Misericordioso. Cari ascoltatori del Sermone del Venerdì, oggi il nostro Sermone porta un titolo molto importante, Frutti della Fede. Ma prima di tutto lode ad Allah, Signore dell'Universo, che sottolinea nel Nobile Corano «Coloro che credono e compiono il bene, Allah li guiderà grazie alla loro fede. Ai loro piedi soccorreranno i roccelli, nei giardini della delizia». E' testimonio che non c'è altro Dio che Allah. E' testimonio che il nostro profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero, bacio e benedizione di Allah su di lui, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti coloro che seguono fedelmente il suo percorso oppure il suo corso fino al giorno del giudizio universale, seguitando nel merito. «Allah, Beremia e l'uomo, Beroni, buona azione che compie e la migliore azione è compiuta dall'uomo e da tutta la società e la loro fede in Allah». E il profeta spiegò l'essenza della fede nel suo dialogo con Gabriele quando questo ultimo chiese al profeta del concetto della fede. E il profeta rispose «Credi in Allah, negli angeli, nei libri celesti, nei profeti, nell'ultimo giorno e nel destino, buono o cattivo». Gabriele ha commentato «Hai ragione». «La fede non è fatta di parole che vengono dette, ma sono parole e azioni compiute dall'uomo. La fede è al centro degli atti che la confermano». Al Hassan al-Basriya fu chiesto «Sei fedele?» Lui rispose «La fede è dublice. Se mi chiedi della fede in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi apostoli, nel paradiso, nella ristruzione, nel destino, io credo in tutto ciò. Ma se mi chiedi del versetto, in verità, i veri credenti sono quelli i cui cuore tremano quando vi è menzionato Allah e che quando vengono recitati i suoi versetti accrescono la loro fede, nel Signore confidano, non so se sono di loro o no». «La vera fede, quando tocca il cuore, si riflette nel suo imbatto sull'anima, sulla ragione dell'uomo, sull'individuo e sulla società. Del suo imbatto anche sulla buona morale. E il profeta disse «Non ha fede che non è onesto e non ha fede che non mantiene le sue promesse». Ha anche detto il profeta, a bacio e pretenzione dalla sudolugia, «La modestia e la fede sono entardipendenti, devono essere sempre insieme». Qualcuno chiese al profeta «Po' il credente essere codardo?» Ha detto al profeta «Sì». Gli ha chiesto un'altra volta «Po' essere avaro?» E il profeta ha risposto «Sì». Gli chiese «Po' essere bugiardo?» E il profeta rispose «No». Uno definisce la fede come dire la verità, anche se fa male a te. Non mentire, anche se è nel suo interesse. Se parliamo anche dei frutti della fede, c'è la bacia e la rassicurazione. Quando la fede travolge l'anima umana, la riembe di tranquillità, fede e contentenezza. E quindi l'uomo si rallegra in questa vita e nelle al di là. Allah sottolinea «Allah guida il cuore di chi crede in Lui». La fede protegge l'uomo dai peccati, come afferma il profeta Muhammad, bacio e benedizione dall'asso di Lui. Al momento dell'adolterio non c'è fede in esso. Al momento del consumo del vino non c'è fede in esso. Quando l'uomo ruba, non ha fede nel cuore. E il Corano, da parte sua, sottolinea «O credenti, non scherniscano alcuni di voi gli altri, che forse questi sono migliori di loro, eppure le donne non scherniscano altre donne, che forse questi sono migliori di loro. Non diffammatevi a vicenda e non datevi non migliori, come è infame l'accusa di inquietà rivolta a chi è credente. Coloro che non si eventano sono gli iniqui. Anche dai frutti della fede l'individuo ottiene l'aiuto e il sostegno di Allah, come afferma il Corano, anche e con i fedeli. Ciò significa che Allah sostiene la persona che crede, come sottolinea il Corano anche «O credenti, se farete trionfare la causa di Allah, Egli vi soccorrà e renderà saldi i vostri passi». Dai frutti anche dalla fede, sottolineiamo che Allah simina l'amore della gente verso la persona fedele, come sottolinea il Corano. In verità, il compassionevole concederà il suo amore a coloro che credono e combino il bene. E il profeta disse «Allà quando ama un uomo chiama Gabriele e gli dice «E io amo questo servitore, lo devi amare anche tu». Quindi Gabriele grida anche agli angeli del cielo dicendo che Allah ama tutti, oppure tutte, tutto questo servitore, li ordina ad amarlo. Gli angeli scendono in terra gridando «O gente dalla terra, Allah ama tal servitore, dovete amarle anche voi». Dai frutti anche della fede c'è il sostegno conferito da Allah all'uomo nei tempi difficili. Di questo il profeta parla ai fedeli, dicendo «Se volete ottenere il sostegno di Allah nei difficili momenti, potete ripetere le subliche di uno dei suoi profeti quando fu in difficoltà. E l'uomo del besce, quando se ne andò irritato, pensava che non buttissimo niente contro di lui, poi emborrò così nelle tenebre. Non c'è altro Dio all'infuori di te. Gloria a te. Io sono lo stato un ingiusto». Così Allah lo sostenne dicendo nel nobile Corano, lì rispondemmo e lo salvammo dalla disperazione. Così salviamo coloro che credono. Dico questo e chiedo ad Allah il perdono per me e per voi. Ritorniamo, cari ascoltatori e cari spettatori. Ma prima di tutto anche l'oda ad Allah e testimonio che non c'è altro Dio che Allah e testimonio che Muhammad è il suo servitore e messaggero, bacio e predizione di Allah su di lui, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti coloro che seguono fedelmente il suo corso fino al giorno del giudizio universale, seguitando anche nel merito e quindi cari sorelle e cari fratelli nell'Islam. La fede fornisce anche sicurezza e stabilità e questo si riflette nelle altre persone intorno al credente. E il profeta disse «Il musulmano è colui che non danneggia le persone con la sua parola né con la sua mano e fidele sono le persone che si fidano di Allah per le loro fortune e le loro proprietà». E il profeta Muhammad, bacio e predizione di Allah su di lui, ha detto anche che chiunque uccida un uomo a cui è stata promessa la sicurezza non sentirà l'odore del paradiso. Anche il profeta ha detto «Giuro in nome di Allah, non crede in Allah quello che fa del male al suo vicino, inoltre non crede in me che trascorre la notte con la bancia piena mentre il suo vicino ha fame». La vera fede promuove l'uomo a fare il bene del bene e ad aiutare i suoi compagni e il suo imbatto si riflette nel suo comportamento verso tutti i creati di Allah in questo universo. Il punto di riferimento è quello che ha detto il boeta «Se la fede viene bersa, non c'è sicurezza, non c'è vita per chi non crede nella religione e chiunque voglia una vita senza religione quindi sceglie la distruzione della vita». Tra i frutti della fede c'è anche la ricompensa che Allah sta preparando bere i fedeli. Il Corano sottolinea «Coloro che credono e combiano il bene Allah li guiderà grazie alla loro fede. Ai loro piedi scorreranno i ruscelli nei giardini della delizia». E anche detto «E coloro che credono e combiano il bene avranno ber di mura i giardini del paradiso». E non detto di vino Allah disse «Ho preparato per i fedeli dei benesseri che non hanno mai visto oppure che non hanno mai visto i loro occhi né sentito l'orecchio». Il Corano sottolinea inoltre che nessuno conosce la gioia immensa che li attende e ricompensa per coloro che avranno fatto. «Pertanto la fede porta sicurezza, solidarietà, amore e misericordia tra le persone e propisce negligenza, sospetto e menzogna. O Allah, facci amare la fede e odiare le fedeltà e la malizia. Portaci su una buona strada. Proteggi i nostri paesi e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto».